Se si concretizza la voce che si sta facendo costantemente in quest'ultimo periodo, non periodo, in queste ultime ore, perché proprio ora si è diffusa la voce, quindi vedo proprio subito l'ho fatto, perché veramente mi ha lasciato a bocca aperta, perché se veramente si concretizza, che ne stiamo a parlare? C'è un bellissimo consiglio, non l'avevo salutato, la Juventus ha preso il seno un altro, il colpo del secolo, anche per la Cepernet sta facendo benissimo, è vero che ha parriciato contro il seno, ma comunque diciamo che lo scudetto è già quasi perso, anche se è il Napoli, l'unica squadra che può combattere solo lo scudetto, non deve mai pensare a questa cosa, perché è una grande squadra, non deve mai pensare a queste cose, se no non ci chiamo a fare queste cose, e per me non lo facciamo, perché per quel signore che abbiamo in pochino non lo faremo mai, ma comunque, levando questa cosa da mezzo, ma comunque, se la Juve prendesse sempre la Real Madrid, proprio tutti quanti la Real Madrid, Marcello, aspettiamocelo, hanno in pace, perché questi sono fortissimi, perché non segna Ronaldo, segna Di Bala, non segna Di Bala, segna Manzio, non segna Manzio, che ci segna Bernardeschi, se non segna Bernardeschi si aggiunge Marcello, che ovviamente ha la vera più realizzativa di Alessandro, Marcello è un attaccante mancato, è un centrocampista mancato, perché ho visto le partite della Real Madrid di Marcello, ma ho visto le roulette che fa, i dribbling, i cross, i gol, veramente, Marcello è un giocatore fantastico, in questo momento, al vero, sta un po' calando in questo listo di campionato, anche se proprio nell'ultima giornata segnata, ma comunque, è un giocatore stra-spaziale, raga, spaziale, veramente, a me mi fa impazzire Marcello, senza dubbio, uno dei migliori terzini della storia del calcio, insieme a Roberto Carlos, Facchetti, Zanetti, giocatori qua, comunque, nel XXI secolo, uno dei migliori terzini della storia, mamma mia, ma cioè, ma di che stiamo parlando, e la Juventus si prende pure questo, forse, non perché se proprio la Juventus si parla, è veramente, cioè, c'è da parlare anche con Florentino, ma per essere che subito ha sbroccato, cioè, raga, ma tu Florentino, per essere proprio la ruina del Real Madrid, perché ora c'è in squadra, non c'è più Cristiano Ronaldo che se ne è voluto andare, ok, poi Modic lo tiene contro voglia, sta facendo vedere le sue qualità, c'è i giocatori, che stati nella squadra, che prima erano fortissimi, ma ora è passato in moto, ora di Modic c'è più il PSG, la Juventus, il Barcellona, ma non più il Real Madrid, perché ha perso Ronaldo, poi tutti quanti non c'hanno voglia, c'è, allora, ci avevamo fatto un video, serve pazienza, perché sta per finire un ciclo, e per me devono venderle subito questi giocatori qua, che cazzo, Cross, che ha sbagliato, ha fatto un errore clamoroso contro il CSK Mosca in Champions League, che Cross è un giocatore che non sbaglia mai i passaggi, non si impegnano più, Sergio Ramos, se no, Sergio Ramos è il capitale, ci staglia, mi sbaglio, perché se veramente ci tiene i colori dei blancos, ma comunque, secondo me Sergio Ramos, veramente, se arriva un'offerta proprio dalla Juventus, lui non accetterebbe, che ne so, 30, 60 milioni, un po' ci ha girato per le tacchiamo, comunque 3, 4, 40 milioni, quel fan, lui non accetterebbe, un altro stimolo, perché, oh, mi sbaglio, però conoscendo Sergio Ramos, per me è così, perché tutti quanti si sono tutti il cazzo, Bell, Benzema, tutti quanti hanno chiesto il trasferimento, ovviamente, ovviamente, non parlo di giocatori come Asenzo, Isco, Casemiro, perché sono giocatori giovani, che pensano, diciamo, un po' più i soldi, però penso anche alla loro carriera, cioè, iniziare con il Real Madrid, invece, giocatori come Cross, Modic, Benzema, Bell, Navas, Ramos, cioè, ditemi, pure io, no, mi metterei nei loro panni, non c'entri più, e ora si parla pure di Marcello, quindi, proprio, l'apice della chiusura di questo ciclo, poi, se fa la Juventus, veramente, la Juventus avrebbe grande probabilità di vincere la Champions League, è vero, potrebbero puntarne ad altri obiettivi, che non so, al centrocampo, prendere un Kanté, un Modric, un Cross, perché, al centrocampo, pecchi un po' rispetto a quando avevi Vidal, Marchisio, Pirlo, Pucco, Pa, ma comunque, sempre un buon centrocampo, ma comunque, come del Sino, sempre Alessandro, vabbè, ci dobbiamo paragonare, Alessandro e Marcello, ovviamente, scelgo Marcello, perché Alessandro, secondo me, lo vogliono pure vendere, perché, proprio, pure, in questo momento, sta facendo delle brutte prestazioni, ha iniziato benissimo il campionato, l'anno scorso ha fatto uno dei suoi peggiori campionati della sua carriera, è molto discontinuo, è molto discontinuo, ma poi, se mi prendi Marcello, che ha pure 40 anni, però è fortissimo, l'anno attaccato di mancano, fa tanti gol, fa tanti assist, è un'esperienza internazionale, è un top player, uno dei, il miglior tersino al mondo, ovviamente, mi scegli Marcello, e che cazzo, ti chiedo, coglioni, Juventino, ovviamente, Alessandro, potrebbe essere utile per il futuro, potrebbe, c'è, il futuro, ce n'è, che c'è a 18 anni, ma comunque, è sempre più giovane di Marcello, può fare, veramente, grandissime cose in futuro, ma comunque, ovviamente, la Juventus fa sempre così, deve vincere ora, perché se non tricasse, deve vincere la Champions ora, e Marcello è l'obiettivo giusto, sinceramente, perché, con Marcello in più, la Juventus, c'ha grosse probabilità, poi la Juventus fa sempre così, no, quando c'era ancora l'obiettivo del campionato, per quando si è inguagliata la Juve, 7-8 anni fa, ovviamente, c'aveva Gucinic, stava facendo benissimo, lo scarta, prendi quello, ovviamente, è un modo di mercato loro, è pure Alessandro, ha fatto bene nel 2016-2017, buonissima stagione, cacciato Marcello, magari, tra il 3-4 anni, Marcello, via, Alaba, che cazzo ne so, comunque, ragazzi, questo è meglio, è il discorso, ovviamente, se viene pure Marcello, cosa vuoi dire, perché, l'ho parlato in maniera oggettiva, però, non è che, soltanto, la Juventus vuole prenderlo, proprio Marcello, ha detto che vuole la Juve, in questo periodo, in questo giorno, ha detto, proprio lui vuole la Juve, quindi, pure lui, vuole un'altra destinazione, vuole altri stimoli, quindi, Real Madrid, Florentino Perez, metti l'interesse che non devi tenere i giocatori che stanno contro voglia, perché, dopo, gli altri, i giovani, non sbocciano definitivamente mai, questo è il mio pensiero, venditi a chi vuoi tu, prenditi accante a De Bruyne, a Ramos, a Mbappé, a Neymar, a Lewandowski, a Kane, tutto quello che vuole, ma, per favore, i giocatori che giocano nel Ramadino da 10 anni, non li tenereai più, mettete like, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo nel prossimo video, paura, ciao io e tu.